siamo giunti a natale e allora mi viene di leggere un brano del mazzo di carte a pagina 120 attinente al tema con il natale alle porte gaetano e sui amici fotografi si recarono più spesso a trovare ricoverati negli ospedali militari queste visite facevano parte del lavoro ma al tempo stesso servivano per scambiare un sorriso e portare un regalo per i feriti la festa rappresentava una specie di ritorno a casa ai riti alle tradizioni fu in una di quelle corsie che gaetano scoprì l'esistenza dell'albero di natale vincent gli spiegò che i suoi genitori per tanti anni avevano continuato a fare il presepe perché i pastorelli erano stati messi nelle loro valigie di emigranti insieme ad altri ricordi quando lui aveva cominciato ad andare a scuola e a frequentare i compagni divenne necessario avvicinarsi alla tradizione americana dell'albero ma non accantonarono quella antica così le due forme in quei giorni convivevano nello stesso spazio gaetano osservò incuriosito le caramelle le mele torroncini cioccolato appollaiati sui rami e vincent gli spiegò che in america l'alberello era di solito un abete e che per le decorazioni si usavano tante luci e varie forme vario pinte di vetro o di ceramica ma che in questa circostanza il ripiego andava benissimo a tratto dalla novità gaetano chiese se potevano fare una foto ricordo accanto a quell'auro così addobbato per la gioia dei feriti un infermiere provvide a scattarla l'idea era nata per portarne una stampa da mostrare a nicolina donna livia e eleonora quella fotografia fu guardata a lungo gaetano vincent e l'alberello tutti della stessa altezza erano al centro bobby più alto era un po indietro si intravedeva anche uno scorcio della corsia e un letto con una testa vendata la foto trasmetteva un'atmosfera di amicizia con l'albero di natale a proporre fratellanza così l'immagine con i soldati fini per essere giustamente collocata nel libro dell'amore e non nel libro della guerra nicolina volle sapere qualche cosa su quella particolare tradizione ma gaetano non seppe fornire ulteriori notizie e donna livia non era per nulla informata salvo conoscerne la esistenza la conversazione poi si spostò sul presepe su come fosse venuto bene quello allestito in casa con l'aiuto di gaetano sul ricordo del presepe dell'anno prima montato nel rifugio insieme agli altri condomini e sul fatto che allora erano sotto la costante minaccia di bombardamenti alleati e che adesso se li ritrovavano fianco a fianco il giorno di natale erano stati organizzati concerti e parti per i soldati statunitensi e c'era la necessità di riprendere gli eventi così gaetano fu via per buona parte della giornata al suo arrivo portò la notizia che l'indomani riprendevano gli spettacoli al teatro san carlo non solo per le truppe alleate ma anche per i civili che potevano accedere alle gallerie e alloggione più che suscitare un desiderio di partecipazione videro il fatto come un passo in direzione della normalità meta peraltro ancora molto lontano quanto fosse lontano lo deducevano anche solo guardando la scarsa animazione che la città mostrava per le feste natalizie fu un natale pressoché uguale a quello dell'anno precedente senza vivacità con molta stanchezza e poche speranze per donna livia e nicolina si era limitato alle funzioni in parrocchia allo scambio di auguri con i vicini e al piccolo rituale domestico l'unica concessione alla mondanità fu la cena della vigilia con l'invito a eleonora con l'invito a eleonora c'era anche gaetano ma lui era ormai di casa e aveva dato il suo apporto uscendo la mattina presto di due giorni prima per cercare di procurare del pesce aveva intenzione di andare a porta nolana con l'obiettivo di acquistare qualcosa al mercato in goppe mura ma passò prima da mergellina con la speranza di contrarre un amico pescatore era uno del gruppo di via martucci che aveva combattuto con lui contro i tedeschi ebbe la fortuna di trovarlo che era appena tornato da una pesca al porto di pozzuoli e aveva preso molte spigole furono felici di abbracciarsi e gaetano per quanto insistette dovette accettare i pesci che gli servivano senza poter pagare e qui mi fermo